Buongiorno cari telespettatori, allora quest'oggi dedichiamo tre, da partire da oggi, tre mercoledì di seguito a parlare della funzione pubblica. Per quale ragione? Perché il 5, il 6, il 7 marzo saranno le tre giornate dedicate all'elezione dei rappresentanti sindacali nell'ambito dei dipendenti pubblici delle strutture sanitarie, ospedaliere, degli enti pubblici, quindi vuol dire i comuni e poi naturalmente di quelli statali del parastato. Momenti importanti e significativi perché in un contesto di grandi cambiamenti, di restrizioni, di prospettive anche di riduzione del personale o cambiamenti di non poco conto, diventa molto importante avere delle rappresentanze che abbiano titolo, possano veramente esprimere quanto il lavoratore vive in un contesto lavorativo e quindi nella propria vita professionale che poi sappiamo diventerà via via sempre più lunga. Il primo capitolo lo dedichiamo alla sanità e quindi tutti i dipendenti ospedalieri. Nella regione del Veneto è stato approvato da poco il piano socio-sanitario, implica delle modifiche molto importanti, cambiamenti quindi per i cittadini ma anche per chi lavora nella sanità, ancora di più, un avvicinamento delle strutture con una proprietà naturalmente di quelle che vengono effettuate come prestazioni, un avvicinamento delle strutture al cittadino e ovviamente un accentramento nelle strutture principali ospedaliere delle fasi acute, delle acuzie sostanzialmente. Ma che cosa andrà a cambiare? Quindi perché diventa importante avere delle significative rappresentanze sindacali? Noi parliamo del RSU della CISL naturalmente, FP Funzione Pubblica CISL. I nostri interlocutori odierni qui in studio saranno Michele Roveron, CISL Funzione Pubblica del Veneto e Fabio Turato, CISL FP Azienda Ospedaliera di Padova. Ben arrivati naturalmente. Partiamo subito con la prima domanda, ovvero cerchiamo di capire il ruolo del sindacato in una struttura pubblica quando naturalmente la struttura pubblica è comunque diversa da quella privata e se ancora di valenza del sindacato si può e si potrà parlare in futuro. Vediamo insieme, sentiamo di capire questo discorso. Ecco, la CISL è un grosso sindacato che ha il suo punto centrale alla persona, la persona che lavora ed è questo il nostro focus dove mettiamo tutta la nostra attività. Noi siamo presenti in tutte le aziende sanitarie, più grosse, con delle sedi che sono aperte a disposizione dei nostri iscritti ma anche di tutti i lavoratori che ne hanno bisogno, sono un punto di riferimento importante dalla praticamente tutta la giornata. Abbiamo interno persone competenti, sono dei colleghi sostanzialmente, sono una bella squadra di persone che fanno volontariato per cui ci mettono il cuore in quello che fanno. Sono dipendenti però della nostra vita, vivono la realtà. La conoscono, la partecipano in maniera forte e cercano anche di interpretare tutte quelle che sono le istanze di tutti i lavoratori nei posti di lavoro. Siamo presenti in sede ma siamo presenti anche in tutti i contesti di lavoro dove abbiamo chiamato. E facciamo, oltre a questo, diamo importanti servizi da quello fiscale a quello previdenziale, assistenziale, vertenziale, mettendo a disposizione professionisti, avvocati, tecnici. E vediamo che le persone ci hanno preso come un riferimento importante all'interno di queste aziende. L'importanza che si acquisisce sempre più nei momenti poi di difficoltà, perché sappiamo che stiamo andando, siamo in un periodo abbastanza difficile, no? Certo. Anche su questo appunto mi riprendo un po' quello che avevo detto all'inizio. Per noi è importante la persona. Per noi la persona, cioè il lavoratore è una persona che lavora ma ci rendiamo conto che dietro a una famiglia ci sono mamme, ci sono dei figli, ci sono degli studenti, ci sono delle persone che non vanno ridotte solo all'aspetto lavorativo ma all'aspetto complessivo della persona e noi ci facciamo carico di questo, dando risposte anche in ambiti professionali ma spesso extra-professionali. Allora, praticamente questa RSU, che tanti non addetti ai lavori non comprendono, non ne comprendono la dinamica e poi conoscendo la verbo polemica di molti nostri telespettatori, tanti dicono ma il dipendente pubblico, anche la rappresentanza sindacale deve avere, perché il privato sappiamo benissimo in balia di varie situazioni, ma il pubblico che in questo momento è super garantito, ancora super protetto e tutelato e non subisce quel che subisce il privato in una mobilità spinta dove si vuole andare a parare, dove si dovrà andare a finire necessariamente tutti, perché si deve anche tutelare in questo modo. Io le faccio la provocazione ma perché tanto prevengo delle possibili obiezioni da parte di chi sta a casa. Guardi, le regole fra pubblico e privato sono esattamente le medesime, quindi le rappresentanze sindacali unitarie sono previste sia all'interno del pubblico che del privato. Il collega prima faceva riferimento alla CISL e quindi ad un'organizzazione sindacale, perché il tutto si basa proprio su questo. Sostanzialmente che cosa sono le RSU? Non sono altro che dei lavoratori che vengono in qualche modo eletti da tutti i lavoratori che sono presenti all'interno delle aziende e che quindi vanno ad affidare ai colleghi, ai propri colleghi, il mandato per poterli tutelare. Quindi a partire da esigenze che possono in qualche modo essere ricondotte a natura contrattuale, quindi esigenze legate alla turnistica piuttosto che all'organizzazione del lavoro, a problematiche che possono essere riconducibili alla busta paga, quindi voglio dire i rinnovi contrattuali poi riferiti alle contrattazioni decentrate in seno alla propria azienda. Quindi sostanzialmente l'RSU non è altro che un insieme di persone che danno la propria disponibilità all'interno delle aziende per tutelare i lavoratori di quella singola azienda. Logicamente le RSU sono poi frutto di un insieme di liste che ogni singola sigla sindacale va in qualche modo a costituire. La CISL in primis va a verificare all'interno della propria azienda quali sono le disponibilità dei propri iscritti a candidarsi e quindi a sostenere questo ruolo, quindi va a costituire questa lista di candidati che in qualche modo dovranno essere poi scelti dai lavoratori. Ogni sigla sindacale presente all'interno di quell'azienda andrà a presentare le proprie liste e i lavoratori, tutti i lavoratori iscritti o non iscritti al sindacato possono esprimere una preferenza e quindi andranno ad eleggere chi secondo loro potrà meglio rappresentarli all'interno della propria azienda per seguire tutte queste tematiche che sono di fondamentale importanza. Se poi mi collego al ragionamento che lei fa, sicuramente qualche privilegio ancora c'è all'interno della pubblica amministrazione però sicuramente le cose sono cambiate, sono cambiate moltissimo. La mobilità, i licenziamenti sono all'ordine del giorno anche all'interno della pubblica amministrazione in modo particolare nel Veneto. Lei saprà benissimo che da poco è uscita una circolare regionale che va a bloccare tutte le assunzioni della pubblica amministrazione in modo particolare negli enti strumentali proprio perché la regione a seguito di una ridotta disponibilità economica dovrà andare a rivisitare e riorganizzare queste aziende per cui anche i lavoratori pubblici saranno in qualche modo individuati per poter in qualche modo affrontare anche processi di mobilità. Questo è un contesto che ormai da qualche anno è presente nella pubblica amministrazione in maniera abbastanza precisa per cui non è poi vero che la pubblica amministrazione ha più diritti... Ma i licenziamenti sono previsti in alcuni ambiti di riduzione per il momento non erano stati rinnovati i contratti a termine era stato fatto questo i licenziamenti non si erano ancora parlato obiettivamente un po' per correttezza nei confronti del privato. Comunque si può andare a parlare in queste situazioni soprattutto in enti di caratura regionale che sono un po' un surplus e quindi abbiamo varie situazioni di decine di dipendenti che sono un po' messi in discussione. La sanità però, questo è il capitolo odierno tutto sommato allo stato attuale subirà una riforma molto importante però non ha avuto tagli per quel che riguarda lo stanziamento regionale non ci sono stati il sociale sì, lo subirà ulteriormente la sanità potrebbe subire in un proseguio di tempo un prossimo anno magari quando dovrà dare qualche cosa al sociale ma per il momento sembra essere tutelata questo almeno sentendo anche in regione quelle che sono state le valutazioni però c'è un grande cambiamento in essere. Sì, io vorrei collegarmi a questo riprendendo il concetto dell'RSU Certo Ecco, al di fuori del contesto amministrativo l'RSU è una formidabile opportunità che hanno tutti i lavoratori perché come diceva lei siamo in un periodo di grossi cambiamenti in un contesto di crisi importante di taglio delle risorse per cui è necessitato insomma il cambiamento diventa un'opportunità importante perché il lavoratore io dico tutti i candidati non solo gli eletti possono partecipare attivamente a questi cambiamenti perché pensare di portare cambiamenti efficaci e che abbiano poi anche un ritorno sulla motivazione perché tutti i cambiamenti portano un grande stress ecco, far parte di un'RSU far partecipare cioè far capire e rappresentare diciamo i lavoratori all'interno di posti di lavoro diventa un'opportunità importante solo chi lavora nei contesti conosce bene poi nei contesti di lavoro conosce bene le problematiche perché le trova tutti i giorni all'interno del proprio posto di lavoro io vorrei anche dire una cosa i cambiamenti che stiamo subendo c'è il taglio delle risorse diciamo poi che le ULS in Veneto rappresentano cioè hanno la linea di separazione fra il sociale e il sanitario è molto labile perché sono sociosanitarie per cui le risorse e la mancanza di risorse si sente in tutti gli aspetti però vorrei dire che il taglio delle risorse in contesto di crisi e il blocco delle assunzioni sta portando all'innalzamento dell'età media dei lavoratori nel pubblico impiego nella sanità nello specifico noi abbiamo infermieri operatori sociosanitari che sono costretti a turni massacranti a volte anche a rinunciare ai riposi riposi per recupero psicofisico non riposi a scapito anche della propria famiglia perché non hanno più la regolarità del turno questo con un'età media che si sta alzando siamo nell'ordine di 48 anni per cui vi lascio pensare la prospettiva futura quale sarà se in qualche maniera non si governerà il cambiamento però possibilità di governare il cambiamento se non ci sono neanche previsti ammortizzatori per il privato il pubblico andrà avanti a 60 anni che è paradossale 65 a lavorare ma ci lavora il privato rischia di trovarsi 55 su una strada senza nessun tipo di supporto per cui si sa bene tra quali due mali possa essere il peggiore perché il governo è stato molto chiaro al riguardo quindi il vostro ruolo diventa sempre più importante perché nell'ambito del pubblico dove comunque deve essere presentato un certo tipo di prospettiva lunga durata nel luogo del lavoro ci deve essere anche un supporto un supporto di consulenza un supporto anche psicologico quindi è un ruolo che va ben oltre quello del semplice sindacato che poteva essere negli anni passati assolutamente sì nel senso che faccio un riferimento ai DPR una volta sostanzialmente si andava ad applicare o a verificare che venissero applicati i DPR previsti a livello nazionale il ruolo della contrattazione negli ultimi anni ha preso piede in maniera decisamente pressante e quindi diventa fondamentale avere le disponibilità dei lavoratori che prendano coscienza rispetto al ruolo che andranno a rivestire tentando di acquisire sempre più competenze in un contesto generale che è questo che lei descriveva poco anzi cioè la contestuale riduzione delle risorse e quindi i trasferimenti dello Stato centrale alle regioni per forza di cose ci mette nella condizione di dover verificare quali possono essere i nuovi modelli da applicare con riferimento particolare alla sanità per cui diventa opportuno tentare di far cambiare le cose dall'interno delle aziende e quindi non subire le modifiche noi credo all'interno delle aziende abbiamo tutte le professionalità e le competenze per poter dar supporto a ciò lei tra l'altro citava poco anzi questi cambiamenti dettati anche dalla regione Veneto noi nell'ultimo periodo abbiamo visto un'assenza per quanto riguarda per esempio l'indirizzo per il piano sussanitario regionale che tra l'altro in questi giorni si spera sia ospita possa essere in qualche modo preso in considerazione proprio per questo diventa fondamentale per ciò che ci riguarda riuscire a dar supporto supporto tecnico e professionale a tutti i nostri colleghi che dovranno in qualche modo cercare di capire quali saranno le indicazioni che ci arrivano dai vari livelli dalla regione in primis ma anche probabilmente dalla conferenza Stato-Regioni o dallo Stato centrale per poter capire quali possono essere poi i cambiamenti da inserire per migliorare la vita quindi qui entriamo in un tema che per noi è di fondamentale importanza e mi riferisco al benessere organizzativo per tentare di incidere sulla tornistica per tentare di capire quali possono essere i nuovi modelli da applicare in virtù anche di questa nuova situazione che si va a determinare assolutamente ciò sta a significare che dovremmo capire quali possono essere i cambiamenti che si vanno ad imputare alle aziende quindi tentare di capire quali possono essere i luoghi doni per essere ricollocati nel caso in cui l'età grafica non ci consenta più di poter dare un apporto mirato e appropriato in alcune aree in alcuni servizi e tentare di capire se questa organizzazione riusciamo a gestire la noi assolutamente dall'interno andiamo in pubblicità poi torniamo con i nostri ospiti e vediamo di soffermarci anche su alcuni aspetti importanti cioè ad esempio dove anche il paziente ha voce e quindi come ovviare per esempio le liste d'attesa l'accesso al pronto soccorso insomma vediamo di discutere di questi argomenti con i nostri ospiti da diversi angoli prospettici subito tra pochi minuti allora adesso ritorniamo sull'argomento prima vorrei seguire insieme a voi l'intervista a Gianni Faverin segretario generale della CISL la commentiamo insieme ai nostri ospiti vediamo insieme quali sono i valori cardine su cui la CISL si fonda? ma credo soprattutto questo della libertà di una rappresentanza libera che consente a una persona che ha un impegno il suo lavoro il suo mestiere di potersi esprimere impegnare chiedere di essere ascoltato aiutato nel suo lavoro nella formazione nel suo impegno a capire meglio come funziona il proprio ente la propria azienda la propria agenzia ma soprattutto con uno spirito di partecipazione se potessi distinguere il ruolo della CISL e il peso e il valore del cambiamento questo è la partecipazione cioè aiutare una persona che ha il proprio mestiere a poter partecipare assieme ai colleghi del lavoro nella propria impresa e quindi a combattere quel naturale istinto di contrapposizione di conflittualità che viene naturale nel dispiegarsi del proprio lavoro e cercare invece di entrare nel merito partecipare avere conoscenze eleggere dei rappresentanti della propria professione avere da loro conoscenza aiuto ascolto e consapevolezza a partecipare per indirizzare condizioni di lavoro in modo che la persona l'iscritto il socio la CISL possa capire perché nel proprio ente ci sono dei cambiamenti come potervi partecipare contribuendo come lavoratore o lavoratrice a dirigere il proprio impegno il proprio mestiere per migliorare le condizioni del servizio dell'attività del proprio lavoro Allora più volte si è fermato il segretario sulla parola partecipazione che vuol dire condivisione di ideali di obiettivi di anche progetti in un momento in cui c'è un individualismo comunque estremamente spinto lo sappiamo nel contesto sociale attuale dove c'è anche un pressing sociale di non poco conto uno guarda il proprio perché si sente vessato bene o male che ruolo quindi viene ad assumere in questo contesto in modo rivoluzionario Giovanni Favari ha sintetizzato bene quali sono i valori della CISL e in cui ci ritroviamo all'interno delle aziende vorrei dire che sono proprio in questi momenti dove il nostro telefono squilla di più nelle sedi sono proprio in questi momenti in cui c'è un contesto di crisi importante che le persone hanno più bisogno di chiamarci insomma ecco e sull'aspetto poi sull'aspetto dell'RSU anche qui ripeto e diventa un'opportunità straordinaria perché all'interno di questi valori che sono la partecipazione la concretezza il sostegno l'aiuto alla persona è possibile governare i cambiamenti e governare i cambiamenti da dentro perché il cambiamento ha bisogno sempre della persona della professionalità all'interno ecco e è attraverso le professioni tutte che noi rappresentiamo che riusciamo in qualche maniera a governarlo questo cambiamento prospettive quindi di cambiamenti effettivi prospettive ce ne sono ce ne sono torno a ribadire il ragionamento va sempre collegato in questo contesto alla disponibilità quindi ha molta importanza questa elezione del 5, 6 e 7 marzo per voi ha una rilevanza sicuramente fondamentale non fosse altro per poi gli aspetti legati riconducibili alle esigibilità sindacali quindi vuol dire i permessi e quant'altro che ci danno poi spazio per poter in qualche modo mettere in campo l'attività nel quotidiano però diventano fondamentali proprio perché ci danno la possibilità di individuare appunto come dicevo prima quelle professionalità che possono in qualche modo dar manforte a chi poi si occupa in maniera precisa di entrare nel merito nei progetti riorganizzativi e quindi l'apporto e quindi la condivisione con tutti ci permette poi anche di renderli attuativi questi percorri e queste progettualità per cui il 5-6-7 noi ospichiamo che le nostre liste possono essere sicuramente accolte e i nostri candidati possono essere eletti perché noi siamo convinti che tutti quelli che hanno dato la disponibilità sono fermamente consci del ruolo che svolgono e dell'opportunità che in qualche modo avranno per loro e per i loro colleghi questo è il contesto in cui ci troviamo oggi parliamo di organizzazione della sanità nella struttura ospedaliera parliamo in modo particolare e non sto stavendo dei messaggi di lista d'attesa e dell'accesso al pronto soccorso c'è un messaggio mandiamo tutti i soldi a Roma perché poverini hanno tanta fame poi anche negli ospedali di Roma mettono 35 pazienti in una stanza di 6 metri quadri vabbè quindi infatti sono un po' delle situazioni che sappiamo che purtroppo si verificano cosa dice quindi queste liste d'attesa che esistono è un problema abbastanza annoso si cerca di dar soluzione non sempre si riesce adesso poi bisogna vedere con la domiciliarietà e con le cure la proprietà delle cure portate a casa dei pazienti se cambierà qualcosa anche questo impatta un po' con l'aspetto voglio dire delle risorse necessariamente quando mancano risorse bisogna pensare concepire nuovi sistemi organizzativi e si lega un po' tutto cioè l'accesso al pronto soccorso avviene quando? quando il cittadino nel territorio non ha il giusto supporto il punto di riferimento per cui alla fine si va sempre a finire il pronto soccorso ecco il medico generico sostanzialmente non è più chiamabile come una volta e non interviene in orari strani sì diciamo che l'organizzazione poi è cambiata per cui anche il ruolo del medico di base è cambiato detto questo comunque io conosco la realtà padovana sono stati fatti di grossi passi avanti in effetti negli anni da 2006 ad oggi insomma si sono ridotte di moltissimo voglio dire gli accessi impropri al pronto soccorso parlo di codici bianchi certo rimane ancora molto da fare perché non si parla di circa 10.000 accessi e una diminuzione di circa 10.000 accessi diminuzione dal 2006 ad oggi per cui è sicuramente importante c'è bisogno di portare secondo noi la sanità più vicina al cittadino e questa è un po' la sfida perché il cittadino deve avere dei punti di riferimento sul territorio che non sono più il pronto soccorso ripeto a Padova sono state fatte sicuramente di grossi passi avanti con la progettualità sui pronti soccorsi con triage socio-sanitario la struttura intermedia i nuclei in AIS che sono nati che sono tutte quante strutture che prendono in carico diciamo il paziente ospedalizzato e lo accompagnano verso casa diciamo c'è ancora molto lavoro da fare molto lavoro che passa e anche qua mi ricollego sempre ai nostri professionisti passa attraverso un approccio multidisciplinare nel senso non solo più il medico di base ma tutta una serie di figure che si devono che devono essere valorizzate partendo dall'infermiere dal personale della riabilitazione dallo psicologo cioè non è più un aspetto soltanto diciamo del medico di base ma fa riferimento a tutta una serie insomma di professionisti che devono prendere in carico nella vera accezione insomma il paziente però allo stato attuale di questo preciso momento tutto questo non funziona cioè chiediamo a chiunque abbia un proprio caro in ospedale se questo viene dimesso e la dimissione viene decisa tra l'altro da un giorno per l'altro lo mollano lì e arrangati e tornatene a casa come puoi se non ci sono i parenti che fanno i salti mortali ma veramente i salti mortali per portarlo a casa dopo devono fare altrettanti salti mortali per pagare una persona che gli stia vicino o sacrificare se stessi perché poi molti lavorano giustamente non c'è nessun tipo di accompagnamento o quant'altro quindi siamo ben lungi anche se la riforma è stata fatta dando questi presupposti condivido con lei il percorso nel senso che noi prima parlavamo di mettere al centro il soggetto con riferimento all'RSU in questo caso invece io credo che l'obiettivo consiglio è quello di mettere al centro il cittadino da dieci anni in Veneto si parla di differire gli aspetti legati alla sanità al territorio quindi da una struttura ospedalocentrica ad una struttura che in qualche modo si rivolga sempre più al territorio prima facevo riferimento al piano sussanitario effettivamente all'interno del piano c'è questa indicazione quindi si mette al centro la persona si fa riferimento ad un nuovo modello che riguarda le cure primarie con l'individuazione di spedali altamente specializzati quindi andando a ridurre anche il periodo di degenza media concentrando le attività per acuti all'interno di strutture intermedie di acuti nell'ospedale e nel territorio di assistenza sanitaria di base economicità il vero problema che lei sollevava oggi io torno a ribadire se ne parla da dieci anni però il ruolo del territorio non è così chiaro non è così esplicito non sono ancora ad oggi state costruite o messe a disposizione tutte le fasi che ora vengono previste nel piano cioè la previsione di andare a in qualche modo a costruire le strutture cosiddette intermedie che possono dare una risposta chiara alle dimissioni degli utenti che in qualche modo hanno subito un intervento e che hanno bisogno non potendo rimanere all'interno della struttura ospedaliera di acquisire cure in una adeguata struttura ok o addirittura all'interno del proprio domicilio ma con i professionisti del caso che in qualche modo possono dar sostegno in maniera mirata ed organizzata questo ancora oggi avviene ma viene in maniera molto limitata per cui noi riteniamo che questa fase ci vedrà in prima linea proprio per tentare di accompagnare questo percorso ma io richiedo questo realisticamente togliamoci dalla posizione del paziente perché non mettiamoci in quella perché voi rappresentate i lavoratori una cosa è l'infermiere il medico il paramedico lotta quello che si vuole che va in una stanza di ospedale e che aiuta il paziente che lo supporta nei limiti in cui può farlo lei diceva all'ospedale di Padova lo sappiamo benissimo se non ci sono i volontari molti pazienti non mangiano nemmeno se sono immobilitati perché? perché gli infermieri non ci sono non hanno tempo eccetera e quindi o la morte per fame o qualcosa o un miracolo oppure mangiano poverete la roba strafredda perché ora che quei quattro disponibili che sono veramente sempre meno possono far tutto il giro è lunga immaginiamo invece che questo infermiere questo dipendente della struttura debba andare a casa del paziente a Volta Barozzo di sotto cioè un comune disperso in una casa dispersa in campagna tempo strada traffico carburante io la vedo paradossale e la persona intanto se ne sta là poi cosa ci andrà ci andrà là un attimo per vedere come sta e poi non ha il supporto ospedaliero non ha l'assistenza non è in una fase acuta ma vive da solo in questa casa io vedo veramente la cosa molto difficile e paradossale realisticamente proprio sia per chi ci lavora che anche per chi riceve le cure che o ha soldi per pagarsi un infermiere privato oppure che non ci saranno meglio che non so però la situazione va in questa direzione se no che tutto vada in questa direzione niente da dire ci sono anche esempi concreti ad oggi ci sono alcune province che già si stanno attivando con queste modalità e danno dei buoni risultati non siamo ancora sicuramente coperti il vero problema è che il salto di qualità ad oggi non l'abbiamo fatto e quindi bisogna andare proprio in questa direzione gli infermieri i professionisti sono pronti a far questo sono veramente preparati sono preparati ma poveretti logisticamente come fanno ma logisticamente questa è legata semplicemente all'organizzazione e quindi quando si parlava prima di modificare di entrare in maniera concreta nei processi di organizzativo vuol dire proprio questo ma se noi prevediamo un ospedale che in qualche modo debba dare un'assistenza diretta per i casi di criticità ok quindi per dare una risposta all'ugenza all'emergenza o agli interventi programmati è logico che io lì dentro concentrerò un numero di lavoratori tale da dare questo tipo di risposta contestualmente devo predisporre anche un adeguato numero di professionisti di infermieri di collaboratori mi riferisco agli os ok che diano una risposta adeguata anche nel territorio attraverso cosa attraverso un processo di programmazione non abbiamo ancora parlato per esempio delle cittadelle sociosanitarie i cosiddetti distretti in collaborazione fra medici e medicina generale ed altri professionisti che possano interagire quindi dei luoghi comunque di degenza allora le cittadelle non sono luoghi di degenza nel senso mi riferisco alle UTAP per esempio o ad altre strutture similari cioè un primo punto di intervento o di riferimento per il cittadino lì può trovare una risposta che è di tipo diagnostico o di indirizzo o una risposta al codice bianco che si citava prima io devo dare una risposta chi ha un taglio da tre punti è assurdo che vada in qualche modo a farsi i 30-40 km e che poi debba attendere dalle 6-13 ore in pronto soccorso ulteriormente incrementando le liste d'attesa è opportuno che invece possa rivolgersi al medico di fiducia al medico di medicina generale o ad altri specialisti all'interno di queste strutture che possono dare una prima risposta per questo ma che contestualmente possono essere da punto di riferimento per la gestione territoriale e quindi per l'organizzazione e l'accompagnamento attraverso ulteriori strutture predisposte organizzative anche a mente parlando che in qualche modo vadano ad accompagnare l'utente nella fase di missione per accompagnarli nelle strutture intermedie nelle strutture protette e quindi possono avere la prima fase di risposta in quelle strutture per poi essere ulteriormente accompagnati a casa con una rete di servizi messa a disposizione in condivisione in condivisione fra chi? fra la struttura ospedaliera queste strutture intermedie e l'accompagnamento poi a domicilio torno a ribadire questi esempi già esistono esistono però con modalità molto ridotte molto limitate quindi l'investimento che si dovrà fare dovrà andare proprio in questa direzione tra l'altro noi siamo in un territorio che di fatto ha sempre sposato il modello socio-sanitario quindi di fatto per noi rientra già nella nostra cultura si tratta solo di dar finalmente io dico una sterzata e l'auspicio è proprio questo sperare che il piano venga finalmente approvato ma poi si dia corso in maniera attuativa cioè l'auspicio è proprio quello che si possa finalmente applicare questa riforma che per noi diventa fondamentale e fa parte della cultura del cittadino veneto assolutamente andiamo in pubblicità poi torniamo vediamo anche quindi il cambiamento che dovrebbe subire il ruolo del cosiddetto medico di base e naturalmente i rapporti anche con le strutture che poi verranno a contestualizzarsi sul territorio tra poco allora siamo nella fase terminale però molto importante ugualmente il medico di base vediamo di inquadrare rapidamente e poi traiamo le conclusioni beh ecco il cambiamento che ci si prospetta anche in virtù di quello che abbiamo detto è sicuramente un approccio multidisciplinare ripeto il medico di base ha per carità sempre un ruolo centrale di coordinamento ma l'avera presa in carico del paziente come diciamo prima non è solo di tipo sanitario ma sociale e in un contesto che deve necessariamente prendere in considerazione non solo il paziente ma la famiglia perché sempre i nostri famosi telefoni in sede spesso appunto ci chiamano e ci dicono ma a me dimettono il genitore eccetera era partito in una condizione di autosufficienza adesso cosa possiamo fare cioè le famiglie non sono preparate per quello c'è bisogno proprio di una vera presa in carico ma il problema è che le famiglie non sono in grado di farlo perché se devono lavorare o comunque devono stare dietro i figli non possono mantenere nessuna babysitter quindi hanno figurarsi se una persona magari non sono in grado da un punto di vista organizzativo ma anche strutturale o anche economico economico per cui è necessario tutto questo non c'è una soluzione che va bene per tutti i casi in ogni caso si passa necessariamente attraverso la rimodulazione delle professioni noi stiamo discutendo all'interno del nostro sindacato all'interno dei nostri professionisti all'interno della CISL anche della figura del case manager diceva prima il collega che i nostri infermieri sono preparati hanno delle alte professionalità e sono in grado di far questo ecco va detto però e qui mi ricollego c'è una serie di passaggi che sono stati fatti che la sanità vennero per la sanità sicuramente sicuramente per la sanità è importante la struttura ma chi eroga la prestazione è sempre il professionista se non si capisce questo si continuerà sempre a parlare di grandi teorie però passa attraverso il professionista motivato e formato comunque bisogna rendere accessibile l'assistenza al privato da parte del professionista poi è la base anche questo un po' un discorso importantissimo non far impazzire dei professionisti dietro a delle situazioni gestite da grandi tecnici del politica che però non hanno contatto con la realtà perché altrimenti sennò il sistema non funziona la realtà è questa nel senso che il politico generalmente dovrebbe avere coscienza delle condizioni che vive la cittadinanza talvolta avviene talvolta non avviene questo per cui torna importante comunque sempre il nostro ruolo che è quello di accompagnare anche con messaggi chiari alla politica quali sono le reali situazioni del nostro territorio questo è l'impegno che noi ci mettiamo da anni ci mettiamo costantemente e sempre all'interno delle aziende in modo particolare anche nel territorio poc'anzi si parlava delle difficoltà dell'utente accompagnato a casa con difficoltà anche di capire quali sono le effettive disponibilità e agibilità ma non sempre non sempre riesce ad avere indicazioni chiare noi crediamo che sia opportuno opportuno quanto mai in questa fase veramente programmare programmare una serie di attività nel territorio in maniera in maniera precisa e attenta se non riusciamo a fare questo io credo che la riduzione poi dei posti letto in qualche modo metta ulteriormente in difficoltà le famiglie assolutamente e in questa fase di crisi andrebbe ulteriormente ad aggravare la situazione che noi conosciamo benissimo non è di quelle più rose e più trasparenti per cui noi ribadiamo ed auspichiamo che questo piano venga approvato quanto prima ci faremo promotori e tenteremo di in qualche modo intervenire ai vari livelli perché gli assessorati competenti possono mettere in campo tutto ciò e mi riferisco sia all'assessore della sanità ma anche all'assessore sociale perché anche lì avremo bisogno di avere delle risposte certe rispetto a queste situazioni in conclusione traendo un po' le conclusioni sempre facendo riferimento alle tre giornate delle elezioni quindi sarà un momento particolarmente significativo in conclusione io chiedo appunto a tutti di scegliere CISL perché CISL vuol dire in questo momento persone preparate persone affidabili persone concrete e che ci mettono il cuore concrete perché spesso è importante arrivare appunto a delle conclusioni noi siamo un sindacato partecipativo che gestisce il conflitto solo alla fine dopo che ha cercato di arrivare a tutti i tavoli per cercare delle soluzioni che possono portare nella direzione insomma dei diritti dei lavoratori per riconoscere i diritti dei lavoratori questa è la richiesta che facciamo a tutti e che auspico insomma e scegliere CISL in questo momento vuol dire scegliere un sindacato affidabile assolutamente quindi quando ci saranno queste elezioni ne parleremo ancora comunque cosa ci sarà per la sanità ci saranno dei candidati che si presenteranno c'è un rinnovo delle cariche le liste sono già state fatte quindi i giorni di votazione sono proprio come lei giustamente citava prima il 5, il 6, il 7 di marzo dove tutti i lavoratori della sanità e non solo quindi di tutta la pubblica amministrazione in Italia andranno ad eleggere i propri candidati la CISL ha predisposto le proprie liste e quindi le ha già messe all'attenzione dei propri lavoratori quindi per avere ulteriori informazioni basta recarsi presso i portelli presenti nelle strutture seguire le indicazioni sui volantini che noi affiggiamo un po' dappertutto e poi le nostre sedi sindacali in modo particolare quella della CISL e funzione pubblica sono sempre aperte a disposizione di tutti i lavoratori grazie mille grazie ai nostri ospiti di essere stati con noi in studio di aver fatto chiarezza su questo argomento noi la prossima settimana mercoledì prossimo ci ritroviamo per un altro capitolo sempre con la funzione pubblica parleremo di enti locali anche lì rappresentanti sindacali la valenza che possono ad avere poi parleremo anche naturalmente in questo contesto delle province per cui i dipendenti di strutture intermedie in che situazione si trovano sono argomenti di grande interesse io vi rinnovo l'appuntamento come sempre naturalmente domani alle 12.40 grazie e buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti